Simo, Simo, non prima il pene in sabbia, prima il corpo. So che a te piace bagnarlo piano piano, ma... Ho capito, l'hai fatto te, c'è anche uno slow motion da parte tua, mentre fai così. Noi mi piace inzupparlo piano piano, però... E' sottopissimo, devi stare attento, devi stare. Ambra, non indietro, dai, stai in equilibrio su quella gambaccia. No, 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 no. Allora, la seconda parola è che... E' molto importante, e molto importante perché quando voi fai sbagliate, ti fai sbagliato, ti fai sbagliato, ti fai sbagliato, ti fai sbagliato. Cioè, la memoria mentale è bravissima, ok? Prima. Seconda cosa. E stai così piegato, ovviamente per caricare la spinta, ti devi sbagliare. Cioè, tu mi stai caricato, non piegato, di fretta perché io non sto così. Non sto così, sono alto e poi le gambe le caricate. Ok? Questi sono passi sul cambio, non sono passi solo. Perché mi smetto io con la schiena. Quinta qua. Quinta qua. Quinta. Quinta. Ora, ora c'è... No! Diretti fuori la schiena. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. No, no! Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Ma di schiena, non di gambe. Quindi le gambe non lavorano. E che ti rende solo più stronzo come il fatto che ci arrivi con più bravo. Ok? Perché tu fai questa schiena? E' così. Io invece faccio questo. Da qua. Cioè, tu in realtà ti spieghi. In tutto il mondo. Mi guardo, guarda. È una caduta spiegata. Guarda che tutto fa. La mia mano mi colpo in qua. Ecco. Carico. Indegabile. E poi ci dovete rispostare avanti a testa. Ci metto questo che fa il caso. Per dire, il strumento è quando dovete si scondi a massimo. Ok? Quindi, da qua. Non hai il baricentro. Allora, c'è l'interno di indietro. Per sistemare il perfetto di testa. E' un baricentro. Un baricentro. Da qui lì. Per dire, le risposte avanti perché non uso gli addominanti. Quindi da qua. Non uso gli addominanti. Non è. È diverso. Quindi da qua. Da qua. Spingi. Da questa posizione qua. Cioè, dal corpo e dal corpo. Vai avanti. Quindi da qua io cago. Il corpo è una cosa che? Perché. Se sto così. E mi spingi. Io non mi spingi. Il baricentro. Dovete dire. Se sto così. E mi spingi. Io voglio in avanti. Ok? Perché sono caldo sui gambe. Quindi da qua. La spinta è. Dritta. No? Vedi che se non mi spingi. 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 Hai capito. Tu stai così. Usi le gambe. Ma da qui. Non puoi stare davanti. Ma che le gambe non funzionano. Le gambe. In questo caso posso solo andare alto. Ok? Le mie gambe. Con la schede tra i cento di avanti. Vanno dritte. Perché da proprio. Mi slancio. Se prima ti lascio un po' cadere. Qui sei cadere. Qui sei cadere. Non ti spingi. la posizione è questa il mio petto non sta vicino è tutto fatto così si va non lo sai ma tu hai fatto sei passi ma lui non lo sai se ne va un pezzaglio questo affatto la schiena è dritta perché alzo il punto di vista delle gambe ok e tirci la schiena in modo che si possa inalcarsi ok e poi spingi senza non l'avete utilizzato no da lì puoi andare a spingere ma non devi partire perché tu fai in avanti ti fermi tanto che non hai secato non c'è un esercizio e non c'è un esercizio non c'è un esercizio non c'è un esercizio non c'è un esercizio mi sto dicendo questo quindi se tu non ti fermi non riesci a tuffare non c'è un esercizio ma 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 non c'è un esercizio Manu senza paura la tabba non ti morde e comunque sia Manu riesce a stare in scuota senza le gambe perciò il problema è solo di filastro no 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 per l'amor del cielo